In attesa della prossima settimana, con il Premier Conte chiamato a riferire alle Camere il 20 e il 21, i partiti raccolgono le idee, ma lo scontro è tutto Lega 5 Stelle. Nel mirino oggi il reddito di cittadinanza. Salvini lo definisce un incentivo al lavoro nero e annuncia che andrà monitorato più strettamente da un nuovo governo. A spalleggiarlo è il Vice Ministro dell'Economia Garavaglia. Il 70% di chi lo richiede probabilmente non ne ha bisogno, ha dichiarato. Commenti che scatenano le ire dei 5 Stelle, la più grande cretinata mai sentita, e rilanciano dal blog. Salvini e i suoi hanno sfiduciato un governo di cui ancora fanno parte. Cosa aspettano a dimettersi? Di certo c'è che la linea della Lega non è compatta come sembra. La voce critica più importante è quella di Giorgetti, che prende le distanze dalla sfiducia, o meglio dai tempi scelti per presentare la mozione. Sono le decisioni di un capo, un capo sempre decide da solo, dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Il PD, dopo l'appello iniziale all'unità, mantiene un profilo basso, con eccezione di Renzi, che già ieri in conferenza stampa aveva aperto d'accordi per una nuova maggioranza. Il segretario Zingaretti da parte sua tiene calda la pista del voto e convoca per il 21 la direzione del partito. Pare più compatta la destra, che preme per il voto subito. Il centrodestra è unitissimo, il nostro gruppo parlamentare in particolare è molto unito. Il nodo della riforma costituzionale intanto aggiunge incertezza ai tempi e ai modi di un eventuale nuovo governo, che sia tramite voto o con la formazione di una maggioranza alternativa, e continua a sollevare i dubbi dei costituzionalisti sull'opportunità di far gestire un tale cambiamento, e cioè il taglio da 975 a 600 parlamentari da un governo dimissionario.